La neve ha fatto capolino a Castel del Monte regalando uno scenario come sempre incantato con la murgia federiciana completamente imbiancata e capace di trasmettere il consueto fascino da cartolina invernale. Le previsioni meteo lo avevano annunciato e l'ondata giallida in arrivo dai Balcani non si è fatta attendere. La Puglia centro settendrionale è immattinata, si è svegliata sotto la neve favorita dalle temperature prossime allo zero nella Bat, neve non solo a Castel del Monte ma anche a Spinazzola, Minervino, Canosa e Margherita di Savoia. Particolare lo scenario dal paese Salinaro con la spiaggia completamente imbiancata a pochi passi dal mare, qualche fiocco di neve anche ad Andria alle prime luci dell'alba ma la nevicata sul territorio andriese è stata più consistente nelle zone interne di campagna. Sempre nella Bat scuole chiuse in via precauzionale a Minervino e Spinazzola. Nel Barese la stessa scelta è stata fatta dai comuni di Ruvo di Puglia e Gravina, scuole regolarmente aperte invece a Corato, Terlizzi e Altamura. Qualche disagio in più è stato registrato proprio ad Altamura dove lungo la strada statale 1996 è rimasta chiusa l'uscita per Quasano a causa della neve mentre la Ruvo Altamura inizialmente presentava non poche difficoltà di percorrenza, massima attenzione anche sulle strade che conducono a Castel del Monte. Neve sulla Valle di Itria, paesaggio incantato anche ad Alberobello, nel Basso Tarantino, come ad esempio a Castellaneta, in alcuni tratti delle zone interne della provincia di Brindisi e nel Fuggiano, sempre su Monti Dauni e vette più alte del Gargano. Anche questa volta con l'arrivo della neve e del gelo non mancano i disagi sui raccolti, col diretti Puglia ha fatto sapere che nel Barese alcune verdure risultano già bruciate, la situazione sui campi agricoli ancora sotto controllo resta comunque monitorata. Nelle prossime ore dovrebbero diminuire i rovesci nevosi mentre persisteranno le temperature vicine o sotto allo zero.